dal vangelo secondo marco in quei giorni poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare gesù chiamò a sei discepoli e disse loro sento compassione per la folla ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare se li rimando digiuni alle loro case verranno meno lungo il cammino e alcuni di loro sono venuti da lontano gli rispose i suoi discepoli come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto domando loro quanti pani avete dissero sette ordinò alla folla di sedersi per terra prese i sette pani rese grazie li spezzò e li dava i suoi discepoli perché li distribuissero ed essi li distribuirono alla folla avevano anche pochi pesciolini recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli mangiarono la sazietà e portarono via ai pezzi avanzati sette sporte erano circa quattromila e li congedò poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di dalmanutà salì 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 salì